E sì, questo è lo spazio di Gran Gala Italia dedicato proprio alle arti marziali, al Kung Fu e chi meglio del nostro monaco Shaolin Liberato Mirena, che abbiamo la fortuna di avere qua in Italia e infatti gli domandiamo subito, come mai un italiano è diventato monaco Shaolin? Come ha fatto? Beh, diciamo che il mio percorso è lungo, un lungo percorso iniziato all'età di 9 anni all'età di 9 anni io ho iniziato le arti marziali, per circa un anno ho praticato il karate con il maestro Toyama ma già da piccolo ero affascinato dal Kung Fu perché ho visto i primi film di arti marziali di Bruce Lee e l'amore verso questa disciplina è diventato così grande che ha un po' spinto sia me anche la mia famiglia a venire a Roma per praticare le arti marziali e ho iniziato quindi da bambino il mio percorso di studio è stato con il grande maestro Shin Dai Wong è uno dei più grandi maestri di Kung Fu al mondo che oggi non c'è più ma che io ho condiviso con lui per quasi 19 anni di disciplina di grandi sacrifici fatti con tanta passione è un maestro molto severo, molto diciamo duro negli allenamenti quindi ho praticato questa nobile arte marziale raggiungendo degli ottimi risultati sia quando ero un suo allievo ma poi all'età di 18 anni mi sono specializzato in altri stili del Kung Fu a 22 anni ho fatto anche un percorso con diversi monaci che praticavano questa disciplina e nel 2015 mi sono diplomato nella più alta scuola di Kung Fu al mondo che è il Tempio di Shaolin situato in Cina nella provincia di Henan e poi ricordiamo che tanti anni dedicati alla didattica perché tu insegni anche in questa bellissima Università delle Arti Marziali con altri maestri importanti e in più hai anche costruito un Tempio Shaolin qua a Roma Esattamente, la mia passione per questa disciplina è stata così convolgente che ho voluto quando mi sono diplomato a Monaco Shaolin ho voluto dare vita a un Tempio un Tempio in Italia ci sono riuscito e è diventato uno dei più importanti centri di Kung Fu a livello nazionale e in questo Tempio hanno studiato con me tantissimi ragazzi, giovani che si sono dedicati a questa disciplina e sono usciti anche fuori dei grandi campioni considerate che la nostra scuola ha circa 19 titoli di campioni internazionali quindi è stato un successo dopo l'altro da me è stato presentato il Kung Fu anche in programmi televisivi molto importanti come per esempio sono stato ospite al Maurizio Costanzo Show più volte a Domenica Inn con Mara Venier sono stato ospite a Uno Mattina e anche la Rai ha promosso dei documentari sulla mia vita, sulla mia storia quindi ho cercato in qualche modo di rappresentare il Kung Fu a livello nazionale con la mia scuola a 360 gradi Allora andiamo a vedere in questa puntata un po' di ammaestramenti anche per i profani Esattamente, queste puntate televisive sono dedicate a coloro che per la prima volta si vogliono avvicinare al mondo delle arti marziali e in particolare al Kung Fu Shaolin perché tutte le discipline di combattimento derivano da questa nobile arte marziale che è il Kung Fu di Shaolin, cioè la disciplina più antica del mondo e noi faremo vedere in queste puntate alcuni esercizi di base che sono utili non solo per migliorare la propria energia interiore ma dare anche quella capacità di rinforzare i muscoli attraverso alcuni esercizi che sono utili anche per la difesa personale Grazie 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 a tutti.